Bloccare il fenomeno dell'abusivismo nelle case Ater e ripristinare la legalità all'interno degli alloggi popolari, soprattutto dei quartieri difficili di Pescara come Rancitelli e Fontanelle, è la proposta del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, condensata in emendamenti al progetto di legge regionale che riguarda le norme per l'assegnazione delle case popolari. Soprattutto nel quartiere Fontanelle il clima ormai è diventato invivibile, troppi reati che vengono consumati all'interno degli alloggi popolari e negli spazi comuni dove lo spaccio non assosta e i sopprusi sono all'ordine del giorno. Con l'appoggio dell'Associazione Insieme per Fontanelle e Pettinari ha stilato una serie di norme che a settembre approderanno in consiglio regionale, sulle quali il pentastellato auspica una larga condivisione. Oltre a chi adibisce l'alloggio ad attività illecite, perché oggi la legge vigente prevede che chi adibisce l'alloggio ad attività illecite se spacci droga all'interno dell'alloggio può essere sfrattato. Con la mia proposta di legge deve essere sfrattato anche chi adibisce l'alloggio e le pertinenze alle zone limitrofe. Che vuole dire? Che se metti la droga nell'ascensore ed è riconducibile a te o metti la tua arma pistola all'interno dell'ascensore deve essere anche per questo sfrattato. Non solo, ho introdotto un comma che prevede che chi ospita stabilmente all'interno dell'alloggio parenti e amici che vengono colti in fragranza di reato, anche quelli devono essere sfrattati dall'alloggio. Non solo, abbiamo previsto un'altra norma, io dico esemplare, che chi presenta domanda di assegnazione all'alloggio popolare e nei cinque anni precedenti è stato condannato con sendenza passata in giudicata per tutta una serie di reati che vanno dal porto di armi, usura, racket contro la persona, contro il patrimonio, non possono accedere agli alloggi popolari. Ecco, questa è una cosa bellissima, se centrodestra e centrosinistra la voteranno, questa mia legge, la legge del Movimento 5 Stelle, ripuliremo finalmente un bel pezzo delle case popolari.